Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo, nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza, come te non c'è nessuno. Come te non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Questo è per la televisione, non? Qual lo pone YouTube? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì.